Benvenuti in un nuovo video, comunque noi siamo quasi abbinate, oggi siamo qui per fare finalmente ne abbiamo fatto una testa così da tre mesi, quando abbiamo vinto da agosto? Penso che sì, se no proprio luglio, tre mesi a farvi adesso di così amo che arriva da coldbox, amo che arriva e è arrivata ed è super pesante Sono curiosissima, c'è anche il simbolo qui, infatti è fredda Ok, apriamo ovviamente, ah ci devo dire una cosa, non la potete più acquistare perché è scato del tempo Giù nell'infobox troverete un link, io non collaboro con degustabox, questa l'ho pagata 18 euro 18 euro sì, 17? 17-18 euro Comunque, non collaboro con degustabox, giù nell'infobox trovate un link, questo link non è affiliato E vi permette di acquistare la vostra prima box a 10 euro invece che 16 euro Ovviamente nel momento in cui vi acquistate, io accumulo 50 punti, io ricevo 50 punti Ma nel momento in cui voi acquistate, anche degustabox a voi vi rilascia un link Perché la vostra volta potete utilizzare con i vostri amici Comunque è molto più grande No no, togli così, metti così Oddio, ho congelato, oddio Vai, ok, vai, ovviamente sopra Vai vedere Vuoi fare una ripresa? Marona non è pienissimo Eh, non posso fare la ripresa Marona non vedete Eh, no, è pienissimo Comunque ve la faccio vedere da così Ce ne vedete? È congelato Si apre Ok Ma che voglielo congelare? Marona, se è quella cosa che ho pensato Ok Se l'ho visto bene, vai O no Oddio Vai Eh, lo sape! no vabbè no sai che pensavo fosse cosa? pensavo fosse quella del tiramisù ah non mi ricordo da chi io allora edizione limitata Giovanni d'Ana oro rosso ravioli ripieni brasato all'amarone della polpicella doppi G no vabbè doppi G brasato all'amarone io direi che possiamo concludere già così eh ma mo li dobbiamo mettere vabbè posso sì 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 vai ma io c'è un altro brusci ma poi ah comunque ci sono andato prosciutto cotto parma cotto prosciutto cotto di alta qualità senza antibiotici dalla nascita eco pack meno 25% di sale ragazzi tè tè 100 grammi prego vabbè io sono già felice è tutto congelato è tutto bello è bellissimo vai però dopo lo dobbiamo mettere nel frigo mi fatti vedere sì fai tu non so se man mano dobbiamo portarlo in frigo no non lo dobbiamo scaricare ma no è congelato papà le amerà i filetti di alici a bassa salatura in olio bio le dolci del mar rizzoli cantabrico 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 penso rizzoli vabbè mio padre le amerà già lo so dalla spagna con furore prego rizzilli rizzoli rizzoli vada vabbè mio padre mi piace ah ecco dicevo guarda qua mettila sul tavolo congelato ok anche perché penso sia un giorno che sta in viaggio quindi non si è proprio sciolta muller ma non sono prodotti con culture originate penso che sia un yogurt bianco bellissimo no ma è pecc raga shake me ricco di proteine senza zuccheri aggiunti no aromi pensi sia un yogurt o sia il latte tu dici il latte non lo so bisogna muller fare lo yogurt no latte fermentato parzialmente screva ok il latte wow ma il pack bello perciò l'ho scelta ottobre perché comunque un mese un po' più freddo vai anche se qua allora vai oddio ah no mi piace ecco l'era mi sentivo una cosa strana ok un'altra bevanda ah no è l'albume d'uovo ah io voglio un'altra bevanda d'agricoltura biologica le naturelle biologico dietro c'è anche un po' una ricetta omelette l'albume e pomodoro ideale per pancake souffle omelette e frittate ok bella corposa voglio di fa di fare di fare smile smile mela 94% mela e zenzero marchio smile no non c'è ah eccolo orto romi dai ci sono ancora altre cose si 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 ma prenderemo sempre queste box speciali la selection voglio prendere l'anno prossimo si sento guacamole sempre della stessa marca orto romi voglio solo sfidare per vedere com'è oh ecco fa vedere pure la confezione si 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 fa una maschera per il viso infatti la confezione possiamo riutilizzarla si bella 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 ok fisco io si un altro ghiaccio che poi guarda il ghiaccio è ancora congelo ma questo sarebbe gel si è un gel va bene prego ci sono delle busse ah chiuse questa shock cosa si racconta attento no si è solo rotto un po' il peggio sempre stessa marca stessa marchia orto romi marchia stessa marchio orto romi romi questo è un minestrone di verdure cose che piacciono a te nuova ricetta vabbè questa è da me freddo sì vabbè ti dice anche come aspetta ma lo so troppo contenta frio vai dai alla fine si vede ci sta prego 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 no prego allora qua ci sta un'altra cosa ancora kit della merenda quarmacotto ma lo voglio che spettacolo si vede adoro aspetta metti così all'interno c'è un zucco yoga un panino te alla pesca un panino con lo salame morbido panino con salame 100% italiano ritter sport mini latte e te detenato yoga alla pesca dai raga ma che bello lei vedendo sempre le cose su tiktok di quelle ragazze che sistemano tutte le cose nel frigo non so se le avete mai viste notiamo spesso abbiamo notato che vi dono spesso questi kit merende e quindi vedi ci hanno ascoltato vado io vai aspetta no guardate no è così no vabbè ma ma perché non lo facciamo vedere no guardate c'è tipo questo divisorio aiuto vedete si vedrà e poi ci sono i prodotti due pezzi sotto vai questo l'ho fatto pure per evitare il contatto troppo freddo come le queste carte già che non è plastica yogurt muller fonte di fibra yogurt intero mirtillo e cereali sembra più alti quindi c'è all'interno c'è proprio mirtillo mirtillo e cereali ma è una novità perché non l'ho mai visto sta cosa no vabbè ma dovrò io sono troppo contenta pure io vai questo è tuo cioè con 17 euro tutte queste cose ma poi c'è una novità che non trovi solitamente decidi fare voi sapete abbonamenti stupidi questo è uno uno ci mangia pure cioè cose nuove prova cose nuove questo è un'idea qualche riporta cose nuove ah un cucchia stracciatella di burrata sabelli 100% latte italiano no vabbè non lo so per vedere perché forse non si è fissuto bene io troppo contenta mamma anche sarà contenta sì vi aspettiamo settimana prossima ovviamente con l'appuntamento challenge degusta box dove proveremo insieme tutti questi meravigliosi e unici prodotti la scelta dei prodotti è sempre ma degusta box non si sbaglia mai io non ho se mangiare la selection non vedo l'ora di prenderla fateci sapere se siete interessati a vedere magari anche qualche no ma per forse non c'è una soluzione vi interessa o non vi interessa scendo dalla aspetta voglio prendere ah sì leggiamo un attimo vabbè si sapeva prodotto del mese prodotto del mese si sapeva sono i prodotti della Müller quindi il latte e lo yogurt allora lo yogurt costa 1,49 il latte invece 1,29 l'abbiamo il prosciutto cotto farmacotto 3,79 i ravioli di rana di Giovanni rana 3,99 i cosi le crocchette diciamo così 3,99 zuppa minestrone 1,99 la bevanda mela e zenzero 1,89 albume 2,99 kit merenda 2,29 filetti di alici 3,99 stracciavella laburata 1,69 e il guacamole 2,49 vabbè che dire ovviamente è una box che convine sia al parato ma anche alle nostre tasche perché comunque i prodotti che c'erano all'interno sono cose che non si fa quindi nulla noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi dobbiamo mettere tutti lo frigo e vi aspettiamo nel prossimo video ciao